Buongiorno, dobro jutro, guten morgen, buon day, joi besante, ultime cene. Non finirai mai di raccomandare di pensare che è tanto importante che lei si chiede sulla tavola, infame, che lei è la messa che porta davanti al mondo, su che tavola che vedi in chiesa è la liturgia per la tavola, la che si conti la vita, invece di vedere la televisione o di gioia, manovrare il macchinario, eh? Contarsi la vita. E dopo, su che tavola, e vengono, non domediti, ma fatti gli sperauli che il prediano di Cristo dice in inglese, perché i genitori, a cui in lavoro, l'ha comprato, fa quei cecali sulla tavola, di modo che dici loro che lei mangia queste e lei è la mia vita. E allora si resta un bel che mai, che prendi metti gli schiambi sotto le tavole, si dice sulle preghiere insieme, per sentire che lui ha le presenti lui là, e per sacralizzare quel momento di vita. Buona giornata e buona vita. Buona giornata e buona giornata.